Ciao a tutti amici videoascoltatori, siamo sempre noi di Radio Liberamente qui alla sesta edizione di Meglio Matti che Corti abbiamo appena visto i vari cortometraggi c'è stata l'assegnazione del premio insomma comunque sono stati eletti i vincitori sia della giuria diciamo così popolare e sia invece di una giuria formata da Fabrizio Starace Roberto Roversi che abbiamo qui con noi e mi dica il terzo che non ricordo più era il Gandini Leonardo Gandini giusto? che però volevamo intervistare anche lui ma oggi non si è presentato pazienza allora Roberto Roversi, lei è presidente UCCA Unione Circoli Cinematografici Arci e voi avete fatto vincere All That's Left anche lei l'ha votato no? sì, sì, Secreast sarebbe l'originale perché il film è belga e vogliamo ricordare anche il regista? si chiama Hugo Salver ed è un giovane regista che viene da una scuola di cinema di Bruxelles vuole spiegare brevemente perché questo cortometraggio vi ha colpito anche se naturalmente i nostri videoscoltatori magari non l'hanno visto però, anzi, sicuramente perché il problema psichico che in questo caso coinvolge la madre di due figli è ben incistato in una storia nella quale prevale un'assenza che è l'assenza del figlio che non incontra il figlio masco che non incontra la madre da tanti anni e se ne è distaccata e proprio, diciamo, un fatto legato alla malattia della madre servirà ad una consapevolezza del figlio di stare accanto e riavvicinarsi alla madre nonostante i disturbi che la madre subisce e alle quali in qualche misura si arrende però è un film che dà speranza perché ci fa capire che di fronte a queste difficoltà anche due persone legate come una madre e un figlio possono riavvicinarsi e probabilmente vivere in simbiosi il resto della propria esistenza Sì, è stato un po' sofferto nel senso che è stato abbastanza lungo e li trappelava proprio la sofferenza di questa persona però sì, tutto sommato alla fine c'è un messaggio comunque di speranza quindi questo è bene io volevo farle una domanda perché io invece ho votato scusate se la metto un po' sul personale ma allora ho votato adesso scusate ma Not The World che è stato l'ultimo cortometraggio che è stato trasmesso secondo me molto bello però lei mi diceva perché parliamo un pochino prima dell'intervista e che anche quello insomma era abbastanza piaciuto però non l'avete votato per un motivo in particolare non per la qualità del cortometraggio il cortometraggio era assolutamente riuscito ed era perfettamente un candidato perfetto per essere scelto abbiamo pensato che senza svelare troppo della storia il tema del disagio psichico non fosse così centrale nel film ma fosse una sorta di dispositivo per un tema completamente diverso altrettanto difficile altrettanto grave della società di questi tempi però che in qualche misura era un tema secondario rispetto a quello primario che è quello dell'abuso possiamo dirlo Sì, riguardava comunque una sfera emotiva e psicologica però magari non proprio un disturbo ecco era più da questo punto di vista sì e va bene un commento finale su questa edizione di Megli Amati che Corti? Io credo che da quando questa iniziativa si è incistata nel festival abbia acquisito un grande interesse un seguito notevole e credo che sia giusto così perché il tema è importante ne parliamo non soltanto naturalmente in questi giorni ma anche durante il resto dell'anno il farlo attraverso strumenti che non siano necessariamente convenistici ma siano anche ma siano anche appunto artistici che siano comunque frutto di di scelte artistiche per il momento il cinema potrebbe anche non essere solo quello io credo che renda allarghi la platea di coloro che sono che possono essere che devono essere sensibilizzati su questo tema infatti mi ha rubato la battuta perché io caldeggio personalmente non c'entra la radio è una cosa mia personale ancora più arte se ne fa a Matt perché ci sono spettacoli, teatro ancora più arte durante Matt perché secondo me è importante va bene la ringraziamo molto grazie arrivederci